Presidente, voglio ricordare in quest'Aula il nome di Mario De Benedittis, scomparso qualche giorno fa nella sua Porto San Giorgio all'età di 97 anni. Mario ha mantenuto per tutta la sua vita gli occhi di quando era ragazzo, di quando a 17 anni, nel 1943, dopo l'8 settembre, rifiutò di arruolarsi nelle truppe repubblichine del regime fascista e scelse invece di diventare partigiano. Raggiunse i Monti Sibillini, quelli che Leopardi chiamava i Monti Azzurri, e lì si unì ad un gruppo di giovani patrioti a Castelmanardo, sopra Amandola. Prese il nome di Battaglia di nessuno. E con questo nuovo nome, nessuno ha attraversato l'inverno durissimo del 43 e del 44. Ma non fu mai solo, non furono mai soli i partigiani in quelle contrade. Ebbero l'aiuto delle famiglie contadine, che seppero sostenerli e proteggerli. Fu una resistenza civile, diffusa e determinata, senza armi, ma altrettanto combattiva, che tenne viva l'umanità, la dignità, la civiltà di un popolo che il fascismo e il nazismo avevano infangato. Ed è per questo eroismo che, in occasione del 25 aprile proprio di quest'anno, la Presidenza della Repubblica ha voluto conferire alla provincia di Fermo la medaglia d'oro al merito per la resistenza civile. Mario De Benedittis, il partigiano nessuno, ogni 25 aprile, era in prima fila, tra i suoi compagni, nella piazza decorata a festa, il più giovane tra i partigiani del Fermano, ognuno con il fazzoletto tricolore al collo. Con quel fazzoletto fu innumerevoli volte Mario De Benedittis nelle scuole ad incontrare le ragazze e i ragazzi, le donne e gli uomini di domani per lasciare a loro e per lasciare a noi in note la sua scelta di vita, i valori di fraternità, di eguaglianza, di giustizia sociale, le parole della nostra Costituzione. Mario, il ragazzo che a 17 anni non ebbe paura, era l'ultimo partigiano ancora in vita tra quei tanti ragazzi fermani che scelsero di schierarsi, di stare dalla parte giusta della storia e a cui dobbiamo la libertà, i diritti, la democrazia. Mario se n'è andato, ma non morirà mai. La sua vita è un esempio per tutti noi. Grazie Presidente.